Tre mesi fa eravamo esattamente qui, ci trovavamo tra i filari di questo meleto per presentare un progetto di filiera innovativo, quello che unisce la frutta al latte per la produzione di yogurt alla frutta 100% piemontese. Una giornata importante, di grandi aspettative, di grande attesa. Oggi, tre mesi dopo, non ci sono più ovviamente i fiori, i frutti sono ormai in maturazione, ma non c'è chi li possa raccogliere. Sì, siamo una cosa assurda, è passato molto tempo da quando a febbraio, come Col di Retti, come tutte le associazioni, hanno fatto le domande per i flussi. Sono passati da febbraio, eravamo tranquilli, sperando bene, dopo maggio, come hai detto tu, ci siamo trovati in questo fruttetto con un discorso in Alpi, avevamo appena passato il problema del gelo, eravamo tutti soddisfatti, adesso ci ritroviamo a giugno, avendo ancora i flussi bloccati. Per un sistema bloccato, non sarà il motivo, qualcosa che non funziona, fra un mesetto cominciamo a raccogliere le pesche e non abbiamo mano d'opera. L'assurdo è che ci sarebbe la mano d'opera, ma non possono venire in Italia a raccogliere. Il 29 aprile ci siamo trovati come Col di Retti in prefettura per esporre il problema del decreto dei flussi, che era tutto bloccato. Ci ha garantito, ci ha detto che il 10 maggio la cosa sarebbe stata risolta. E' passato i due mesi, adesso siamo inizio giugno e siamo sempre fermi. La situazione è grave adesso, perché ci sono delle aziende che hanno già cominciato a raccogliere dai piccoli frutti alle ciliede. C'è noi delle aziende che lasciano l'anghietto del prodotto, perché non riusciamo a raccogliere tutto. E cosa comporta questa cosa qua? Che arriviamo poi magari fra un po' di tempo con prodotto sui punti vendita senza prodotto italiano. Cioè che magari a prezzi altissimi e senza avere un prodotto di qualità bello come c'è quest'anno sui banchi in Italia. E' molto grave la cosa. Una situazione disastrosa che ha il sapore della beffa. Dopo un'annata, quella 2021, colpita gravemente dalla gelata dell'aprile 2021. Un'annata questa che nonostante la siccità ha un'abbondanza di frutta che però appunto rischia veramente di restare sugli alberi. No, le aziende arrivano da un'annata l'anno scorso purtroppo di gelo che si è raccolto poco. Delle aziende hanno fatto il 75% o meno di raccolto, 80, 50. Arriviamo da un'annata triste, se posso dire la parola, per il comparto frutticolo. E adesso quest'anno, per fortuna, ripeto, c'è la roba sugli alberi. Il problema adesso è raccoglierla. Lo Stato dovrebbe darci una mano perché dipendiamo da un semplice click. Ma se c'è qualcosa che non funziona, che non va, non c'è una persona, un gruppo, qualcosa che faccia partire questo sistema operativo da poter partire con i flussi. Poi dopo noi che partono oggi, domani, ce ne abbiamo in azienda. C'è ancora una cosa lunga, 20-25 giorni prima che arrivano e siamo molto, molto preoccupati. Il tempo passa e la frutta non aspetta. Esatto, ormai siamo arrivati alla metà di giugno. Se anche arrivasse finalmente il nulla osta all'ingresso degli stagionali, comunque non prima di inizio luglio, metà luglio, si avrebbe la disponibilità di questa manodopera. Certo, siamo già in ritardo di 15-20 giorni. Se è vero che mancano gli stagionali extracomunitari a raccogliere frutta nel Saluzzese, ma in generale in tutta la provincia di Cuneo, perché allora non assumere giovani o disoccupati del posto? Diciamo che al di là delle difficoltà burocratiche legate ai vari redditi e bonus che le persone stanno percependo, il discorso di un lavoro così saltuario come quello della raccolta, perché essendo legato al metro, alla maturazione, non ti dà quella continuità. Non è così semplice, ammesso che si trovi qualcuno che abbia la volontà, perché comunque è un lavoro impegnativo. Non è così semplice assumere, dicevo, per quello sarebbe importante, come col diretti lo chiediamo da tempo, il ripristino di un voucher che dia la possibilità, previa a sospensione di quelli che possono essere i vari bonus, assumere le persone senza fargli decadere da altri benefici. In più sarebbe auspicabile, questo lo diciamo da tempo, per rendere comunque più attrattivo e più competitivo il settore una decontribuzione del lavoro stagionale come avviene negli altri paesi della comunità europea, decontribuzione che sgraverebbe da un peso importante le aziende e darebbe la possibilità di salari più elevati e che attrarrebbero sicuramente più lavoratori. Grazie.